Scripta Chain lancia Planum, una sidechain o un sidechain layer per l'emissione di tokenized asset. Niente paura, cerchiamo di spiegare bene che cosa vogliono dire questi concetti qui. Partendo da cos'è una sidechain o un sidechain layer, tutto risiede proprio nel significato della parola Planum, che non a caso è stato scelto appunto dal team di Scripta. Planum, dal latino, vuol dire un livello rialzato, un piano più alto. Infatti quando si parla di layer, dobbiamo capire che layer di base, solitamente se prendiamo l'esempio Bitcoin, è il protocollo che conosciamo, quel Bitcoin che conosciamo. Quando parliamo di livelli superiori o layer superiori, parliamo di strutture che vengono costruite in modo astratto, in modo concettuale, sopra quel livello, quindi non toccano il livello di base che continua a funzionare, la blockchain, abbiamo imparato che cos'è la blockchain, questa catena di blocchi, quella non viene toccata, ma viene costruito un qualcosa oltre quel livello lì. Quindi ha un livello superiore che si interfaccia, ma ha la sua base sul piano inferiore. Senza quel piano inferiore non potrebbe funzionare quel piano superiore, quindi Planum. Con questo stratagemma, che cosa si può fare sulla stessa blockchain di Scripta, che ricordo essere una blockchain a se stante? Si possono emettere dei token. So che il concetto di token viene spesso legato ad Ethereum e agli smart contract. In questo contesto, come ad esempio per un eventuale sidechain su Bitcoin, non dobbiamo pensare ai smart contract e alla blockchain Ethereum, ma a un concetto differente. Però il concetto di token rimane lo stesso. Che cos'è un token? È una rappresentazione, è un gettone. Come ci spiega anche in questo articolo, che comunque vi lascio in descrizione, scritto appunto su Medium, dal team di Scripta stesso, si può tokenizzare, ossia rendere rappresentabile su blockchain, tramite dei gettoni digitali, qualsiasi cosa appartenga al mondo reale. Ad esempio, potrebbe essere utilissimo per rappresentare e frammentare un immobile. Facciamo il caso, volessimo vendere un immobile, ma poterlo vendere suddiviso, ad esempio a metro quadro. Potremmo creare una rappresentazione tokenizzata dove ogni gettoni, ogni token rappresenta un metro quadro dell'immobile e a quel punto potrebbe essere venduto l'immobile totale a diversi acquirenti. Oppure un altro esempio, e poi ovviamente potrebbe anche essere venduto a un singolo acquirente se comprasse tutti i token, questo è ovvio. Facciamo un altro esempio, quello dei ticket, dei biglietti. Potrebbero essere venduti dei biglietti, in questo caso non sarebbero uguali l'uno all'altro, ma effettivamente sarebbero dei token non fungibili, ossia tutti diversi l'uno all'altro perché rappresenterebbero un posto e un singolo utilizzo per un singolo viaggio. A quel punto si potrebbero vendere biglietti del treno tramite un token digitale. Oppure si potrebbe tokenizzare, quindi suddividere, una opera d'arte. Vogliamo tutti quanti comprare la Mona Lisa, quantomeno avere un pezzettino della Mona Lisa. Facciamo un esempio esagerato. Mona Lisa potrebbe essere tokenizzata e suddivisa in non so quanti milioni di token e noi comprando un token che rappresenta una frazione, una parte della Mona Lisa, ci renderebbe proprietari di un milionesimo dell'opera d'arte. Questi sono solo degli esempi. Gli esempi poi come ci elenca qui sono tanti. C'è il mercato appunto degli investimenti immobiliari, quelli dei sistemi di membership e abbonamento, quelli delle industrie di gaming, ad esempio invece di comprare o ricevere dei gettoni fittizi, si potrebbero guadagnare su dei giochi, dei videogiochi, o spendere per degli items, nuove armature, nuove armi, eccetera, dei token reali che hanno un valore vero sul mercato. Oppure nel campo del fintech, la biglietteria online con l'esempio del treno che vi ho fatto prima, reti di sistemi di pagamento, tokenizzazione di team sportivi e franchising, abbiamo visto l'utilizzo dei fan token ad esempio, no? che sta già propagando. Emissioni di token non fungibili, quindi magari degli oggetti collezionabili. Un token rappresenta quell'oggetto e può essere venduto e potrebbe avere una liquidità molto più agevolata rispetto a muovere l'oggetto fisico vero e proprio. Come vi ho detto prima, nell'esempio di un immobile, un immobile vale 300.000 dollari, potrebbe essere tokenizzato e un singolo token potrebbe valere ad esempio 50 dollari. Quindi si potrebbero acquistare degli shares, delle parti di quell'immobile in equivalente in token e si potrebbero anche commerciare, quindi comprarne di più, venderne e magari se l'immobile va ad aumentare di valore, anche i nostri token andrebbero ad aumentare poi in valore e in prezzo. Tutto questo vuole essere implementato ed è stato implementato sulla scritta chain. Quindi il layer di base rimane scritta con la sua coin Lira e il suo sistema tramite Masternode, Ida Nodes e Proof of Stake, mentre su un livello superiore si va a creare quella che è una sidechain o diverse sidechain per la gestione di token. Infatti il sistema, prima di farvelo vedere nel pratico, funziona proprio così. Ve lo metto proprio in modo semplice, ma rilascio poi a te che stai seguendo il video e a voi che state seguendo, l'approfondimento direttamente dalla Wikipedia o comunque dai documenti di scritta, altrimenti il discorso diventerebbe veramente lungo. Praticamente se si vogliono creare dei token, si crea una blockchain parallela che in qualche modo comunica con la main chain, la blockchain vera e propria di scritta, così che il tutto rimane decentralizzato perché si basa su un livello decentralizzato, ma viene creata una sorta di blockchain privata, perché così è, dove all'interno vengono create delle nuove monete, non sono più i lira, ossia nei blocchi di quella blockchain ci sono transazioni che non vanno più a contabilizzare i lira scambiati, ma vanno a contabilizzare quei nuovi token. Quanti ne esistono? Come si chiamano? Quanto sono divisibili? Che funzioni hanno? Beh, questo lo decidiamo noi che lo creiamo o comunque il creatore. Come si fa a crearne? Hanno sviluppato una piattaforma davvero semplicissima perché basta andare su planum.dev, anche io è la prima volta che accedo a questa piattaforma, quindi lo farò insieme, lo faremo insieme per la prima volta. Ovviamente ho un po' di dimestichezza con l'ecosistema scritta. Consideriamo che per effettuare delle transazioni e anche quindi per accedere a la scrittura dei dati sulla blockchain principale, serve pagare delle commissioni. Commissioni bassissime, ma in ogni caso bisogna comunque andare a scrivere quello che si sta facendo sulla blockchain principale. Quindi se si vuole creare una sorta di smart contract, non è uno smart contract, eh, non è uno smart contract, ma vogliamo andare a scrivere quello che stiamo facendo, quindi la creazione e i dettagli del token che stiamo creando sulla blockchain originale. Come fare? Servono dei lira e serve quindi un account, un wallet, un indirizzo nostro sul quale creare il tutto e andare a pagare quelle piccole commissioni. Quindi devo andare a collegare questa applicazione che è planum.dev, che è una struttura appunto che si lega a tutto l'ecosistema, con il mio wallet di scritta. Vi ho già parlato in altri video di scritta ID. Questo è un'estensione che vedete qui nel mio browser e con questa possiamo autenticarci se l'abbiamo già, diciamo, impostata in tutte le applicazioni di scritta. È il modo più semplice, altrimenti si può accedere tramite un seed, che è la rappresentazione del nostro wallet. Quando noi andiamo a creare un wallet, ad esempio tramite scriptamanent, andiamo ad avere il nostro punto seed, che è il nostro backup del wallet, dove risiede la chiave privata in pratica, e lì, con quella, potremo accedere allo stesso modo. Quindi, se andiamo a fare login, vedete che potremmo sia utilizzare il seed scaricato, ma io voglio utilizzare scriptID, che è molto più semplice. Clicco su plugin e faccio usa questa identità. In ogni caso, recuperare il seed è veramente semplice, basta accedere alla vostra applicazione Manent e basta riguardare quel video in cui ho spiegato come funziona Manent. Scaricate il seed e andate a caricarlo praticamente direttamente dentro l'app. E avrete accesso, appunto, all'applicazione di Planum. In questo stesso articolo troverete le definizioni per i passi che vi sto per far vedere. Andrò un po' veloce, perché non vuole essere questo un tutorial su come fare. Vedrete che poi in realtà è molto semplice. Prima però di procedere nel pratico, vi consiglio di studiare quello che c'è dietro, che cosa vuol dire tutto questo aspetto, approfondire il discorso sidechain. Quindi, andiamo a vedere Asset Basics. Praticamente qui diamo il nome all'asset che vogliamo creare. Io, a questo punto, voglio creare un token, ad esempio per Coinsquare, sulla blockchain di scripta. Il mio asset symbol sarà KSQ. Vado a settarne le metriche, ossia quanto vorrà essere la supply dei KSQ. Diciamo che voglio crearne 100 milioni. Ecco qui, 100 milioni il massimale. Quanto è il decimale di divisione dell'asset? Quanto si può dividere, quindi quanto si può andare oltre la virgola? Diciamo una divisione a 8 decimali. Uno standard Bitcoin. Si possono poi impostare delle features per questo asset. Ossia, se andassi adesso a selezionare questo asset, può essere reissued, potrei un giorno aumentarne la sua supply. Quindi la sua supply massimale non sarebbe fissa, ma potrei andarne a creare di più. Se andassi a selezionare questo asset è burnable, o burned, can be burned, vuol dire che questi token possono essere bruciati, quindi diminuire il suo massimale nel tempo. Io selezionerei la facoltà di andarne a bruciare nel tempo, così da diminuirne e aumentarne la sua scarsità. Quindi non inflazionabile, ma deflazionabile in pratica. Creavo il nuovo asset. Vedete che cosa mi chiede? Sto creando un nuovo asset, nome CoinSquare, simbolo KSQ, supply 100 milioni KSQ, decimale 8, cioè si può dividere 8 decimali dopo la virgola, quindi non se ne possono creare di più della supply creata adesso, e però è burnable, quindi se ne possono distruggere. Questa operazione andrà a creare l'asset e verrà creato questo token e inviato a questo indirizzo, che è l'indirizzo del mio wallet manent. Controllare tutte le informazioni e inserire la password. Et voilà, la sidechain è stata creata correttamente. Se vedete il messaggio non è i token, i token sono stati creati correttamente, ma è stata creata proprio effettivamente una sidechain. E questa sidechain risiede al suo, diciamo adesso, fulcro, il suo riferimento direi, nel mio indirizzo manent. In quanto questa sidechain può essere vista come una blockchain privata, dove l'indirizzo dove risiedono al momento tutti i token è il mio indirizzo. Tutta la contabilità degli scambi che avverranno da questo momento in poi verrà gestita nella sidechain, quindi nei blocchi paralleli a quelli che sono i blocchi della blockchain di scripta. Infatti, dentro scritta, non ci saranno i token, non sono visibili i token che sono stati appena creati, ma sono legati a una blockchain che però è legata, quindi planum, un livello superiore, sul protocollo di base, che quindi rende il tutto decentralizzato. Abbiamo adesso una proof of existence, infatti vediamo questa, che sono tutte le operazioni che appena generate e riassunto, questa è la Genesis e vediamo il nome, il supply, il simbolo, i decimali e tutte le informazioni legate al token appena emesso. Il pagamento effettuato è stato quello di 0.001 lira, ossia un millesimo di lira, come scritto qui. Quindi una transazione a costo bassissimo al momento, questo è l'equivalente in dollari, e come abbiamo visto una generazione istantanea, quindi velocissima. Tra l'altro la velocità anche di transazione dei token sarà gestita dall'efficienza che ha la rete scritta stessa, scritta chain, ossia un livello di efficienza elevatissimo grazie al supporto dei nodi, quindi dei da nodes, ossia la struttura in masternode che viene gestita appunto dalla blockchain di scritta. In questo stesso documento troverete tutti gli approfondimenti riguardo a questi discorsi che vi ho appena fatto, quindi questi nodi, i trust link, questa è l'applicazione decentralizzata Manent che potete avere anche sul telefono, come vi ho fatto vedere in quel video, in video precedente. Il mio bilancio si è abbassato perché ho pagato una piccola fee per la creazione, qui ho i token, andiamo a vedere, e andando a controllare quelli che sono i token nel mio portafoglio, ho un totale di 100 milioni di coinsquare token all'interno del mio indirizzo, e qui troviamo la sidechain corrispettiva che è coinsquare. Per andare a effettuare un invio di questi token, io dovrò solamente selezionare un indirizzo, a questo punto però non sarà un indirizzo della sidechain, ma un semplice indirizzo scripta, quindi un normale indirizzo scripta, e se vogliamo scambiarci questi token, dovremmo utilizzare l'indirizzo scripta, un po' come avviene per Ethereum, non si utilizza un indirizzo diverso, ma si utilizza l'indirizzo Ethereum, lo stesso che verrebbe utilizzato per scambiare Ether. E qui si fa invia token, posso selezionare il token, quindi seleziono coinsquare, e come indirizzo seleziono un indirizzo lira valido, o un indirizzo scripta. E poi il quantitativo che voglio inviare. Adesso provate solo ad immaginare la potenzialità che c'è dietro a questa cosa, a questo sviluppo ulteriore che stanno facendo su scripta. Io per quello spesso vi ho detto che scripta ha le potenzialità per diventare un qualcosa di veramente grande. Hanno costruito delle funzionalità che neanche monete molto più capitalizzate hanno costruito, hanno sviluppato. E questa cosa è integrata ad esempio con la scripta card, questa bellissima carta che hanno già creato, ve l'ho fatta vedere al contrario. Eccola qui, questa carta che in parecchi di voi già hanno. Qui dentro potete ad esempio collegare quello che vi ho fatto vedere, quel wallet di Manent potrebbe essere ad esempio collegato a questa carta qui. E i token potrebbero quindi risedere direttamente in una carta. Come fare? Praticamente basta utilizzare l'indirizzo della carta invece che un indirizzo qualsiasi e a quel punto i token creati verrebbero già creati all'interno della carta. E nel momento in cui si va a creare ad esempio una struttura, un circuito, per esempio per buoni, come potrebbero essere i punti fragola, no? O i punti di un circuito di supermercati, a questo punto utilizzando le carte stesse se ne possono trasferire o caricare in modo contactless direttamente con la carta. Ma adesso che la struttura esiste, il limite è solo la fantasia di come poter sfruttare tutta questa struttura, direi ben gestita e ben ideata appunto dall'ecosistema Scriptachain. Per tutti gli approfondimenti vi lascio ai link in descrizione. E per eventuali domande o dubbi, c'è poi tutto il team disponibile direttamente, direttamente la community che si è creata, direttamente su Discord. Troverete il link al gruppo Discord e al server Discord di Scriptachain anch'esso in descrizione a questo stesso video.